7.51 Quando si è coggente come Mazzucco il tempo vola luogocomune.net per me uno dei blog per quanto possa valere poco la mia considerazione come tutte tra l'altro personale dopinabile ritengo quello di Mazzucco uno di quei blog di quei siti, di quegli appuntamenti che aprono, schiudono mondi meravigliosi e stimolano anche dibattiti assolutamente nuovi fino a quel momento l'unico problema è che per leggere tutti i commenti ai suoi redazionali ci vogliono giornate intere perché ci sono migliaia di risposte grande Massimo allora ti do innanzitutto un riferimento parziale di quelli che sono organizziamola anche con il MIV una conferenza sulle scichimiche adessia sì grazie di cuore Bobbo Disgraziato buongiorno io ci credo lo dice Max poi quanto è nocivo sulle coltivazioni agricole Leonardo Settebagni buongiorno a tutti voi Emiliano Dallodispoli credo nelle scichimi che posso fare un paradosso d'estate limitano le piogge e fanno aumentare il calore per far vendere più condizionatori magari fosse solo quella Eleonora Juventina di Pietrina poi buongiorno conobbi la storia delle scie chimiche anni fa tramite il Delfino scaricavo dal computer della loro pagina e pagina passando dalle scie a Tesla qui all'ARP quando indicavo il cielo la maggior parte della gente riteva e mi rispondeva tu stai a impazzire con questa politica viviamo in mezzo ad una maggioranza beota ma che è sempre meno maggioranza grande Luchetta Nunzi che ti abbraccia buongiorno Davide Tellena nocive senza ombra di dubbio Nicotemo il giudizio qui è portato oltre alla domanda che giustamente richiedeva Massimo credo nei bambini che hanno asma allergie e intolleranze questo anche per gli adulti non soltanto per i bambini adesso sono diventati tutti intolleranti a qualcosa lui vuole dire non dovrei credere a Mazzucco attivissimo sappia attivissimo scrive il professor Pallini che credo nei bambini che hanno asma allergie e intolleranze gli studi medici sempre pieni credo nelle piante che vedo pieni di parassiti credo perché vedo un saluto al prof grazie di cuore per ieri premesso che non credo a quello che si dicono su quelle che per noi sono scechimiche ammettiamo che come dicono loro sono gli scarichi degli aerei ma non sono lo stesso nocivi allora di che vogliamo parlare Simone Cotra andiamo oltre ho sempre diffidato dai miliardari impegnati Vari Grillo Fazio Celentano Littizzetto Sabina Guzzanti portafogli a destra e politica di sinistra Pelato 64 e Maria ci scrive bentornata Elena grazie cumuli i cirri che fine hanno fatto forse stanno nel cervello di questi geni io sono convinta che le scechimiche siano nocive buona giornata a voi a Mazzucco da parte di Maria nel 66 mio padre nel 66 circa mio padre camminava a via della conciliazione di sera e dal cielo iniziarono a cadere filamenti argenti che poco dopo si disciolsero ha sempre pensato a fenomeni extraterrestri oggi grazie a voi sappiamo cosa era quella roba Veronica Barbarito mi lasci la battuta Veronica vista anche l'ubicazione dell'evento che c'è San Pietro vicino magari un che di miracoloso poteva esserci ciao Enrico da Fiumicino sabato scorso il cielo nuvoloso si è aperto ed ha mostrato una rete di page ad alta quota fuori dalle vie di decollo delle linee civili ah si perché volano anche di notte e volano anche sopra le nubi adesso mi diceva Marcianò che hanno cominciato ha praticamente smesso di farle di giorno perché in certe zone a meno dove sta lui e lo fanno di notte perché appunto così nessuno può più fotografarli perché altrimenti diventa una cosa imbarazzante ma lui che è veramente a questo punto è incagnato come pochi si alza presto al mattino fa le foto tutte le ore poi non so cosa ha preso anche le macchine fotografiche infrarossi eccetera eccetera e sembra un mastino che ormai ha ferrato il coso non mola più è fantastico no penso alla sua vita che brutte frequentazioni Marcianò Gravicioli una vita terribile Mazzucco c'ha lei allora grazie a Mazzucco lavoro straordinario egregio il suo impegno è quello di Marcianò grazie davvero questo te lo scrivono gli ascoltatori buongiorno a tutta la redazione esistono senza dubbio alcuno un abbraccio toni 69 Massimo gli aeri che sganciano queste scie sono di colore grigio Massimo Mazzucco Massimo gli aeri che sganciano queste scie sono di colore grigio e senza scritte ieri mentre uscivo con la macchina dalla galleria a Tuscolano è passato un'area bassa quota oltretutto stava atterrando sulla pista epica di Capanelle vicino il campo Roma della Barbuta per poi virare alla fine ciao da parte di Luca Massimo guarda nel momento in cui comincio ad entrare nei casi particolari ce ne sono di tutti i tipi da quel che ho capito per cui trovo anche che sia perché ci sono quelli che appunto si mettono lì a discutere su una foto particolare se l'aereo ci hanno scritto oppure no trovo molto più semplice guardare i risultati vedere queste cose appunto che non sono spiegabili dal punto di vista fisico e chiedere casomai a quelli che controllano il cielo che cosa ci mettono dentro perché non bisogna commettere anche qui l'errore che una volta si commetteva con l'11 settembre che poi invece abbiamo smesso di commetterci non sta a noi spiegare quello che è successo tu mi racconti una versione ufficiale io ti dimostro che non sta letteralmente in piedi e che è una bugia a quel punto sei tu che mi hai mentito che devi dirmi cosa è successo davvero non solo io dico che devo spiegartelo per forza capisci e qui è la stessa cosa io vedo un risultato che nessuno sa spiegare che è ovviamente anomalo che ovviamente non è soltanto un fenomeno fisico naturale a questo punto è perfettamente inutile agitarci tra noi e vedere quante sono grigie quante sono blu quante ci hanno scritte quante no i signori che controllano il cielo che hanno sotto sotto il loro controllo quello il nostro spazio hanno anche la responsabilità di spiegarci cosa succede fine Sergio e Franca grandissimo affetto e ringrazio così come Alessia Donatella Ilaria Laura Maria Antonietta Angela Massimiliano grazie grazie davvero di cuore a tutti voi per la splendida giornata di ieri Franca e Sergio sostengono assolutamente l'attendibilità delle scie chimiche e l'esistenza delle stesse come l'amico Francesco Rossi che ringrazio solo un cieco o un prezzolato può negare la presenza in cielo di scie chimiche 342 4151 406 ripeto 342 4151 406 quanti di voi almeno credono all'esistenza delle scie chimiche solo quello 342 4151 406 prego Massimo no una curiosità perdona farò una figura orribile d'ignorante ma siccome è la quinta volta che citi la cosa di ieri che io non so assolutamente cosa sembra puoi dire in un secondo solo in un secondo solo ieri abbiamo voluto vivere una giornata straordinaria per intensità per emozioni correggimi Elena se sbaglio ma mi sembra che il tenore e il calco della stessa la si possa raccontare in queste parole e con questi termini abbiamo grazie alla commissione sicurezza urbana dei Roma Capitale e di chi la presiede l'onorevole Fabrizio Santori convocato a Roma quelle persone che oggi restano a testimoniare anche con un impegno civile quella che è la tragedia o quelle che sono le tragedie dedicate alla violenza umana quindi abbiamo chiamato era presente con noi Piera Maggio la mamma della piccola Denise Pipitone rapita quindi c'è il fratello che sentiremo oggi di Emanuela Orlandi Pietro Orlandi insomma c'era Barbara Siringo Barbara Siringo è la sorella di Stefano Stefano Siringo e Iende Iannelli venero uccisi tutti nel 2006 nel febbraio del 2006 in Afghanistan cooperanti la versione ufficiale parla di morte da overdose due ragazzi puliti come loro in realtà uno lavorava anche con dei carabinieri tutti sono disposti a dire i suoi colleghi che sono stati uccisi perché avevano scoperto di strane fatturazioni che venivano emesse illegalmente da società che lavoravano per conto dell'ONU cosa più importante che va assolutamente stigmatizzata e focalizzata di questa vicenda è che il PM che lavorò sul caso e lo archiviò velocissimamente è quel Luca Palamara oggi presidente dell'Associazione Nazionali Magistrati capite perché si fa carriera in questo paese quale sono i dovuti passaggi per le grandi carriere però è stata una giornata bellissima Massimo immagino certo adesso ho capito grazie figurati amico mio allora luogocomune.net è finito il tempo fanno venire i tumori vedere gli studi qui lo dice Paolo 69 ancora strano perché poi se posso lo saluto è un utente storico di luogo comune che tra l'altro uno dei primissimi che mi contattò proprio per le scie chimiche già 8-9 anni fa lui ha seguito questo problema dall'inizio è sicuramente molto cosciente molto informale non so se fa riferimento alla moglie di Chinne che in realtà le sciechi vero? vabbè marmittari allora Massimo Mazzucco grazie di cuore luogocomune.net ripeto luogocomune.net qui chiede Bruno qua Bruno Alvise che saluto quando sarà completato il decalogo mancano due prove nella prossima settimana così possiamo anche avvisare il nostro amico che si chiama D'Amato che finalmente si chiama D'Amato quello di giornalettismo Alessandro D'Amato sì ecco così ci potrà dare finalmente le risposte che spiegano il mistero dei scie chimiche che dimostra che ha ragione lui e che non è soltanto un ciarlatano qualunque giusto? benissimo un abbraccio grande grazie Massimo ciao Massimo grazie a Massimo Mazzucco a giovedì prossimo